Gentile signora Franceschi, l'iniziativa promossa dalla fondazione dedicata a suo figlio Roberto costituisce occasione per accrescere nelle giovani generazioni la coscienza dei principi e dei valori, dei diritti e dei doveri sanciti nella nostra Costituzione. La voce e la testimonianza di chi ha sofferto la perdita degli affetti più cari potranno indicare il percorso che la Costituzione individua per sviluppare la cultura del confronto civile delle idee e delle opinioni. In tal modo sarà possibile contrastare ogni forma di intolleranza e diffondere la sensibilità politica e la passione civile necessarie per una consapevole e responsabile partecipazione alla vita democratica del Paese. Idealmente presente a così rilevante momento di confronto e di riflessione, invio a lei signora Franceschi e a tutti i presenti i più cordiali saluti, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Signor Presidente, la ringraziamo di averci espresso la sua vicinanza e partecipazione all'incontro di questa sera sul filo della Costituzione che vuole ricordare lo studente Roberto Franceschi con una riflessione a più voci sui valori fondanti della nostra comunità. Abbiamo avuto modo di apprezzare tante volte il senso di responsabilità e la dignità con cui lei interpreta il ruolo di garante della carta fondamentale. Ha scritto Anna Arendt che vivere insieme nel mondo significa che esiste un mondo di cose tra coloro che lo hanno in comune, come un tavolo è posto tra quelli che vi siedono intorno. Questa serata riunisce persone e storie differenti, accomunate però dalla convinzione che la Costituzione è il grande tavolo simbolico attorno a cui stringersi per disegnare un futuro diverso, un impegno tanto più importante in questi tempi di crisi profonda. Sentiamo con gioia che questa sera, idealmente, lei siede con noi a questo tavolo. Lidia Franceschi, Presidente Fondazione Roberto Franceschi. Grazie.